Sottolineare la bellezza della famiglia nonostante le tante difficoltà che incontra. È un ritratto pieno di speranza e di fiducia, quello che emerge dalle relazioni dei 13 circoli minori relative alla prima parte dell'instrumentum laboris dedicata all'ascolto delle sfide sulla famiglia. Nei documenti presentati in Sala Stampa Vaticana si evidenzia la vitalità della famiglia basata sul matrimonio indissolubile tra uomo e donna, il suo essere scuola di umanità, crocevia di integrazione che dà forza al tessuto sociale. Pur riconoscendo le svariate difficoltà che oggi nel mondo incontrano queste cellule fondamentali della società, i gruppi linguistici auspicano un documento finale, lineare, non troppo tecnico, capace di arrivare a tutti, in cui si evidenzi l'importanza della pastorale familiare, l'attualità della sfida delle migrazioni, l'attenzione e la diffusione della teoria di genere e ai suoi rischi. Le relazioni dei circoli minori chiedono poi una maggiore riflessione sull'importanza degli anziani nella vita familiare, così come sulle sfide della disabilità. Spazio infine al tema della bioetica, i cui sviluppi possono danneggiare l'essere umano nella sua essenza e nel suo valore, al tema della tecnologia e a quello dell'educazione affettiva.